Non sono una persona che è molto geloso. Non voglio molti oggetti. Non sono geloso degli oggetti, ma sono geloso delle esperienze. Ad esempio, a fine settimana il mio amico è andato a Georgia per visitare il nostro amico. Io voglio andare a Georgia per visitare Stefan, ma ho avuto molti compiti e non puoi andare. Ho preferito un bel viaggio, invece di possedere un oggetto interessante. Mi piace l'esperienza. Penso che la geliosa è essere un po' pericolosa. Le persone che diventano molto gelose dicono o fanno cose che non intendo. Ad esempio, qualcuno che non può controllare la gelosia può rubare. Ho potuto ruvinare un amicizia dicendo cose cattive. Ho avuto amici che erano gelosi delle oggetti che io ho avuto o delle cose che facevo. Potevo vedere la gelosia e non mi piace. Si compattevano diversamente. Non mi piace visitare i miei amici che sono gelosi. E' molto difficile. Quando vedo qualcuno geloso, cerco di fare quanti veri, to share, con lui o lei. Li rende meno gelosi e più facile stare insieme. Anche penso che è un po' gelosi, se è normale. Tutti vogliono che non hanno. Anche penso che è un po' utile. Per esempio, una persona che è geloso di un buon compagno di classe, potresti lavorare più, di più per ottenere un buon grado, 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 o persona che è gelosi del lavoro di qualcuno. Potresti lavorare di più per essere un buon compagno di classe. Sì, gelosi è molto complicato, ma tutte le persone hanno geloso e non più male e non più buon. Grazie.